Nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura dell'Aquila sulle presunte irregolarità per il concorso da direttore presso il Centro Servizi Anziani. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, ha emesso la misura cautelare della sospensione dal servizio nei confronti del Segretario Generale del Comune, Carlo Pirozzolo. Un provvedimento emesso per le responsabilità emerse durante l'inchiesta, dal quale emergerebbe il tentativo di condizionare il concorso a favore della dirigente comunale Patrizia del Principe, già sospesa dal pubblico servizio nei giorni scorsi, a favore della quale sarebbe stato confezionato il bando di concorso indetto dal Comune nel 2014 per la copertura del posto di direttore dell'Exompi, concorso che comunque non fu poi vinto dalla del Principe, nonostante fosse l'unica candidata. Al Segretario Generale del Comune è contestato il reato di turbata libertà di scelta del contraente in un bando di gara. La del Principe, inoltre, è coinvolta in un altro finale dell'inchiesta, sempre relativo all'Exompi, con l'accusa di aver percepito denaro da un imprenditore dei traslochi in cambio di incarichi diretti, sempre sul Centro Servizi Anziani. Il dirigente dell'Avvocatura, Domenico De Nardis, ricoprirà ad Interim, come già accaduto finora, il ruolo di Segretario Generale. Pronto il ricorso dell'Avvocato del Segretario Pirozzolo, Carlo Benedetti, che al contempo è anche Presidente del Consiglio Comunale, che non ha commentato la decisione del giudice annunciando l'intenzione di impugnare il provvedimento in tempi rapidi.